Salve a tutti e bentornati per questo nuovo video. Abbiamo aspettato per due anni questo momento. Ebbene sì, Magnus Carlsen affronterà Hans Mock Nieman nelle semifinali dello Speed Chess Championship che si terranno dal vivo. I due non giocano più dal vivo da quando Nieman batte Carlsen con i pezzi neri e scoppiò uno scandalo clamoroso dove tutti accusarono Nieman di imbrogliare. E allora Carlsen ha battuto Eri Gaisi, non avevo dubbi, dato che Eri Gaisi è un giocatore fortissimo però sapete Carlsen lo batte sempre. Continua a fargli complimenti, dice che è impressionato però lo batte sempre. Questo è un dato di fatto. Abbiamo l'intervista di Carlsen che risponde alle domande su Nieman ma prima di iniziare vi chiedo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui. L'intervista la lasciamo in fondo, seguiamo la sequenza temporale degli eventi. Magnus Carlsen affronta Arjun Eri Gaisi che se non mi sbaglio è arrivato addirittura ad essere numero 4 al mondo veramente impressionante, però contro Carlsen ragazzi perde sempre, soprattutto in una sfida a più partite. E allora vediamo il dominio di Carlsen su Eri Gaisi con un Carlsen che si presenta con 3321 di punteggio cioè è un punteggio altissimo su chess.com, penso di non averlo mai visto così alto, è quasi record. Eri Gaisi gioca con i pezzi bianchi e apre con D4. Carlsen risponde con cavallo F6, segue C4 e C6, Carlsen sta per giocare la Nimzo indiana. Eri Gaisi però rifiuta e gioca cavallo F3. Per quanto riguarda il tema della scacchiera chiedo scusa ma c'è spunto come lo fa vedere solo così in questo caso. Pedone D5 per Carlsen, cavallo C3, pedone in A6. Molto interessante pedone A6. Quindi Carlsen gioca questa linea, rientriamo praticamente nel gambetto di donna rifiutato, ma vediamo cosa ha in mente. Perché A6 è una mosta strana, no? Magari vuole giocare B5, magari B6, magari semplicemente impedire cavallo in B5. Eri Gaisi cattura in D5, segue pedone per D5, alfiere F4, alfiere D6. Sappiamo che Carlsen è un giocatore solidissimo, ama rientrare nei finali e nei finali non ha rivali, è fortissimo. Segue alfiere per D6, donna per D6 e Eri Gaisi gioca a pedone E3. Una partita tranquillissima fino a qui. Carlsen mette il real sicuro con Arrocco, Eri Gaisi sviluppa l'alfiere in D3, segue B6, allora vuole fianchettare alfiere Campochiaro. Eri Gaisi gioca a Rocco, alfiere B7 appunto, donna C2, batteria di donna e alfiere che attaccano H7. E Carlsen continua con cavallo in D7. Quindi sta preparando C5, torre C8, magari torre E8 e vediamo cosa succede. Eri Gaisi gioca invece torre D1, segue torre E8, pedone A3, pedone C5. Eccolo qui, Carlsen attacca al centro. Eri Gaisi cattura e Carlsen riprende di pedone. Due pedoni uniti, due pedoni uniti appaiati sono forti. Pedone B4 per Eri Gaisi che decide di voler sacrificare un pedone apparentemente. Però il punto qual è? Che dopo pedone per, pedone per, donna per, Eri Gaisi prepara torre B1 e quindi di attaccare la donna e l'alfiere. E allora Carlsen non cattura neanche, gioca torre C8, segue pedone per G5, cavallo per G5, torre C1 per Eri Gaisi. Certo è che la torre nera sta attaccando la donna a raggi X, quindi il bianco deve stare attento. Carlsen spinge in D4, wow, minaccia di catturare ma sta sacrificando un pedone. Ecco, sta giocando in maniera spettacolare, vuole dargli scacco matto. Eri Gaisi cattura di cavallo, Carlsen gioca semplicemente cavallo G4, minaccia di entrare in H2 e poi magari dargli scacco matto. Eri Gaisi gioca G3 per salvarsi e Carlsen continua con cavallo per alfiere in D3. Guardate qui, la maestria di Carlsen, gli ha indebolito le case chiare e gli ha tolto l'alfiere a campo chiaro. Certo, posizionalmente qui il nero è come se avesse già vinto. Segue donna per D3, donna per pedone in A3, Carlsen riprende indietro il pedone. Eri Gaisi gioca H3, caccia il cavallo. Carlsen lo ritira in E5, è pronto a saltare ad esempio in F3. Oppure deve prima rimuovere questo difensore e poi giocare cavallo F3. Cioè si vede anche ad occhio che qui Carlsen ha un grosso vantaggio posizionale. Eri Gaisi ritira la donna in C2, segue pedone H5 senza paura, mamma mia che mostro ragazzi. Un Magus Carlsen mostruoso, vuole attaccare stile alfa 0. Eri Gaisi gioca Re F1 e Carlsen continua con A5. A5 il motore gliela assegna come errore ma guardate qual è l'idea. Dare scacco, attivare l'alfiere. Eri Gaisi offre il cambio delle donne, Carlsen da scacco, segue RG2, donna per donna, cavallo per. Carlsen qui si ritrova ad avere una posizione molto comoda, rientra in un finale. Valuta che ha il pedone passato, quindi lui capisce che qui sta meglio. E gioca cavallo D3. Con cavallo D3 attacca la torre, vorrebbe tanto catturare il cavallo in C3. Quindi unica mossa per difendere torre C2. Carlsen continua con alfiere B7 scacco, segue Rf1, alfiere A6. Minaccia ovviamente attacchi di scoperta con il cavallo per attaccare appunto il re. Quindi Eri Gaisi gioca RG2, Carlsen alza la torre in C7. Non vuole pareggiare ma vuole vincere. Questo è un buon segno, quindi non ripete la posizione ma è pronto a raddoppiare le torri. Eri Gaisi invece gioca cavallo D4. Segue torre in C8, cavallo in E2 e qui arriva cavallo B4. Beh, di nuovo cosa sta succedendo? Carlsen sta attaccando la torre. Eri Gaisi invece di giocare torre C1, la mossa consigliata al motore, gioca torre D2. Però con torre D2 chiaramente Carlsen può catturare in C3. Perché dopo cavallo per, torre per, sappiamo che due cavalli valgono più della torre. Quindi a Carlsen conviene fare questo cambio e rientriamo in un finale con cavallo e alfiere contro torre. Con un pedone passato per il nero. Quindi a regola qui il nero vince. E infatti Carlsen la fa proprio facile. Cioè non ha rischiato nulla partita a senso unico. Partita incredibile questa. Torre in D8 per Eri Gaisi da scacco. Segue Re in H7, torre D7, alfiere in C4. Alfiere difende il pedone in F7. Eri Gaisi viene dietro al pedone, lo vuole attaccare e Carlsen lo spinge tranquillamente. Perché lo spinge? Basta. E beh, dopo torre per ha in mente l'infilata. Segue comunque torre per A4, alfiere B3 e Eri Gaisi gioca torre in A3. L'idea è che su alfiere per il bianco può giocare torre per. Però Carlsen, guardate, furbo, gioca alfiere D5 scacco. Segue torre per, cavallo per D5. Quindi difende la torre e rimane con un pezzo in più netto. È il maestro delle semplificazioni. Un genio degli scacchi. Un assoluto genio. Segue torre in A5, cavallo F6. Eri Gaisi qui non abbandona, però ragazzi, cioè qui non puoi battere Carlsen con un pezzo in meno. Cioè non scherziamo proprio. E arriva poi il momento qua dove Eri Gaisi decide di abbandonare. Perché il re sotto scacco, se il re dovesse catturare, segue cavallo C3 e si guadagna la torre. Anzi, Eri Gaisi qui non abbandona, ma gli scade il tempo. Vedete, gli scade proprio il tempo, non ha abbandonato. Invece su re G2 posso giocare ad esempio mosse come cavallo G5 e cavallo F3 e cercare di dare lo scacco matto da dietro. Fatto sta che questa partita è completamente vinta per Magnus Carlsen, che batte così Arjun Eri Gaisi e accede alle semifinali che si terranno il 6 di settembre a Parigi. Allora, vediamo questa intervista di Carlsen, vediamo cosa ha da dire Carlsen riguardo a Neiman appunto. Eri Gaisi, come ti senti a fare in Paris e avere il face off against te in la semifinals? Eri Gaisi, è stato molto bene. Eri Gaisi, se ho avuto un buon giorno, probabilmente vado a venire senza troppo problemi. Ma, diciamo, è qualcosa che molte persone vogliono vedere, ovviamente. Quindi, credo che sarà divertente per alcuni, ma, diciamo, non è segretario che vorrei volerlo per un altro oponente. Wow, allora, intanto mi fa impressione vedere Carlsen parlare in questo modo, un Carlsen senza energie, un Carlsen che non ha voglia, moscio, diciamo. Ma, perché Carlsen è così? Proprio perché odia Neiman, oppure anche per la perdita della madre? Cioè, nel senso, cosa ha Magnus Carlsen qui in questa intervista? Ha appena abbattuto Eri Gaisi, però, e un Carlsen che tiene lo sguardo basso? Non lo so, sembra che non stia così tanto bene. Fatto sta che, avete visto cosa ha detto? Ha detto che lui preferirebbe giocare contro un altro giocatore. Però lui sa che tutti vogliono vedere questa sfida e pare che questa volta, comunque, andrà a sfidare Neiman a settembre e a giocarci contro, non si tirerà indietro. Io non vedo l'ora, sinceramente. Vediamo come continua l'intervista. Ma pensi che viene a un costo psicologico di giocare contro lui, given quello che ha traspirato tra te e te? Sì, diciamo, siamo qui, quindi... cerco di fare il miglioramento. Sì, è quello che è. Non lo so, non vuole rispondere. Quindi, boh, a questo punto mi viene da pensare Carlsen si presenterà o no? Io penso di sì. Penso di sì per come ha reagito. Però, allo stesso tempo, oh, non è proprio voglioso. Quindi, se mettiamo le due figure a confronto, da una parte abbiamo Neiman, che non vede l'ora di affrontarlo, di dibattere tutti, organizza sfide di scacchi per il mondo, va nelle case degli scacchisti, proprio nelle case degli scacchisti, cioè nel senso nel paese in cui abitano e li sfida a giocare. Incredibile, Neiman. Dall'altra parte abbiamo un Carlsen che sembra poco voglioso, non ha voglia di fare assolutamente niente e gli scoccia tanto giocare questa partita. Boh, io, ragazzi, non so cosa pensare. Ditemi voi, fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.